collegamento con l'erci a casso a bilancio elmac volta caricato gli articoli si procede andare nella sezione bilancio elmac ed inviare prodotti alla bilancia una volta inviati la bilancia si va a effettuare il conto e si chiude il conto la bilancia stampa un QR code una volta che abbiamo completato l'operazione della bilancia basta reggere il QR code sul nostro box e il conto è pronto per essere scontrinato